Raffaele Carella, membro del comitato L'Alto Europa con Sipras, a livello nazionale c'è un problema di firme, a livello locale come va? Il problema a livello nazionale è la impartenza, stiamo recuperando soprattutto in Val d'Aosta dove comunque abbiamo sfondato le 2300-2400 firme, sappiamo bene che per ogni regione l'obiettivo sono 3000 firme, mettendo che la Val d'Aosta era il punto critico possiamo ritenerci soddisfatti. A Foggia siamo oltre le 400, solo nel cittadino, ma a livello provinciale andiamo per le 1000, altre 500 fino alle altre 1000 e possiamo ritenerci a posto con la coscienza. Stiamo parlando delle elezioni europee del 25 maggio, ma cos'è quest'Alto Europa con Sipras? 25-26 maggio, l'Alto Europa con Sipras è una lista a sostegno di Sipras candidato alle europee, appunto 25-26 maggio, è una lista aperta che ha all'interno personalità di spicco, qualche membro di partiti, ma soprattutto è l'unica lista di sinistra che si presenta a queste europee. Siamo in campo per prendere le firme perché non essendo un partito ha bisogno di 150.000 firme per potersi presentare nella competizione elettorale, quindi per adesso può firmare chiunque, come ha dimostrato per esempio Rita Borsellino, che è europarlamentare del PD, che è invitato a firmare per la lista Sipras. L'Alto Europa con Sipras, l'altra Foggia con? L'altra Foggia con Foggia, nel senso che ci sono dei non sviluppi, quello che ti posso dire è quello, sarebbe piaciuto a tutte e a tutti aver potuto dare un'alternativa come in Europa anche a Foggia, attualmente stiamo a zero, e visto i tempi la vedo dura, ti devo fare una confessione a cuore aperto.